Il cantiere oggi è fermo, una breve pausa di una settimana, ma già lunedì riprenderanno le asfaltature e la messa in sicurezza dei marciapiedi nel tratto della rotatoria di Porta San Bortolo, al punto prelievi dell'ospedale civile. I lavori entro la fine di agosto saranno terminati. Entro il prossimo anno riconsegneremo alla città l'intero tratto stradale, rimesso a nuovo e in sicurezza, assicura l'amministrazione comunale, che con l'occasione di mettere mano ai sottoservizi, ha deciso di sistemare definitivamente anche l'impianto stradale della via. Un unico intervento complessivo in un unico cantiere. 110.000 euro l'importo complessivo che rientra nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria strade, che prevede interventi anche in Contra San Pietro, strada padana verso Verona e verso Padova, di Casale e della Commenda, tutti già realizzati.